Urla strazianti di dolore da parte di chi tra le vittime ha riconosciuto il proprio congiunto. Disperazione per chi ancora non sa la sorte dei propri cari. La piazza di Civita, campo base per i soccorritori, ma anche per testimoniare la propria vicinanza a chi tra le bellissime gole del Raganello ha perso un proprio caro. Ed ancora, i volontari, soprattutto gli stessi cittadini di Civita, i primi ad intervenire e a portare i soccorsi. Questo è il racconto dell'avvocato Gaetano Campana. Volontario della Polizia di Stato in vacanza nel suo paese a Brescia. Un'attaccetta così non doveva, non doveva succedere. Mi sono reso conto quando sono sceso lì al ponte, eravamo in tanti, comunque io mi sono messo davanti a soccorrere questi ragazzi che erano sotto e ho visto che i sommostratori sono scesi con le corde e hanno fatto un lavoro straordinario. Comunque, grazie, voglio ringraziare loro a nome di tutti perché sono stati veramente bravi a tirare su un ragazzino di almeno, che aveva tipo 14 anni, 15 anni, e si chiamava Giuseppe e tutti quanti gli dicevano Giuseppe dai che ce la fai. E' salito su, quando è salito su l'abbiamo preso in braccio, era desidratato, il bambino era molto spaventato, però poi l'abbiamo calmato e si è portato su tranquillamente.